Consigliere Campione, una netta presa di posizione rispetto all'immobilismo che riguarda il giardino di legalità a San Luca. Da un anno è tutto fermo e forse si torna anche indietro perché adesso ci sono le erbacce, c'è l'argilla. Quel progetto che avevate come comitati di quartiere pensato adesso cos'è? La volontà di andare avanti esiste ancora, però ad oggi purtroppo è stata mortificata. La volontà di piantare, di mettere ordine che parte proprio dal basso, da un progetto ideato dai cittadini di San Luca. Non può essere un'esperienza conclusa, anzi deve esserci una risposta che riscatti la cittadinanza attiva, quella partecipata. Ora dobbiamo passare, sono convinto e ne siamo convinti, ci siamo confrontati fino a ieri sera, da quelle che sono le parole ai fatti. Io ce la metterò tutta, questa volta da consigliere, per quello che posso, da amministratore. È più gravoso, è molto più facile additare qualcuno qualcosa quando sia all'esterno. E ora dobbiamo confrontarci per quello che sappiamo fare, ma dobbiamo farlo, la città non può ancora aspettare. Qual è la responsabilità dell'amministrazione in questo immobilismo? L'amministrazione ha la difficoltà di organizzarsi bene. Io sono del parere che ora bisogna individuare tre, quattro punti importanti di risposta. E questo si può fare nella squadra, all'interno della squadra, individuando gli obiettivi, che sono tante volte sollecitazioni dei cittadini. È proprio il progetto di ruolo, ora dobbiamo applicarlo per questo progetto. Io sono del parere che con la buona volontà e con i comitati di quartiere che faranno sempre da pungolo, perché questo è il loro obiettivo, qualcosa si può fare. È un dato che un consigliere di maggioranza critica alcuni passaggi dell'amministrazione? Io sono un consigliere di maggioranza, ma innanzitutto sono un consigliere. Cioè un consigliere che vuole rappresentare le esigenze della città, di un quartiere. Io questo è chiaramente un'esigenza che vorrei trasmettere a tutti i miei colleghi, di maggioranza o d'opposizione, perché sulle cose da fare non c'è da discutere, ecco si devono fare e basta. Non è una critica come consigliere di maggioranza alla maggioranza, assolutamente. È un volere essere importanti nella gestione della città.